Musica Ho un bel ricordo di Budapest 2015 quando vincevo la gara dopo una partenza fantastica. Non vedo ora di tornarci e di provare a ripetere quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Penso sia un bel posto, è pieno di fan, molti dei quali parlano il tedesco perché vengono dall'Austria e dalla Germania, ma anche gli ungheresi entusiasti di ospitare la Formula 1 nella loro città. Direi che Budapest ama la Formula 1 perché di solito domenica arriva molta gente. In generale ho ricordi davvero belli di Budapest. Il tracciato è molto corto, spesso viene chiamato l'ammonaco dei circuiti. Mancano i muri, ma ci sono molte curve, un lungo rettilineo, quello principale, e a seguire diverse curve che non ti lasciano molto tempo tra l'una e l'altra. Di solito fa molto caldo e l'asfalto è irregolare, cosa che rende il tutto abbastanza difficile. Fisicamente per noi piloti è una grande sfida, ma nel complesso è un posto dove amiamo curato. Grazie a tutti.